Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale come sempre con il bollettino della Regione. Il Veneto conquista oggi il poco invidiabile record di positivi da inizio pandemia. Sono 7.403 i casi registrati nelle ultime 24 ore in Regione, un dato mai segnato in 22 mesi di battaglia quotidiana contro il Covid. Le vittime sono 29, toccando quota 12.336 i pazienti attualmente positivi si attestano a 75.971. In compenso cala la pressione negli ospedali. I malati Covid ricoverati sono 1.164, meno 49 rispetto a ieri in area medica e 170, meno 7 rispetto a ieri in terapia intensiva. Nelle corsie ci sono circa 1.200 pazienti e uno su due ricoverati non è vaccinato. I non vaccinati rappresentano però, attenzione, soltanto il 13% della popolazione. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, insiste sulla necessità di modificare in tempi brevissimi il modello sin qui adottato per vaccini e quarantene per evitare le quote sempre più lunghe ai punti di prelievo, ma anche per rendere più efficiente in questa fase particolare di espansione della variante Omicron, l'intero sistema. L'idea è quella di mettere in quarantena i positivi, ma non i vaccinati, soprattutto quelli che hanno già avuto la terza dose. La cronaca, un evento privato in una struttura a quattro stelle in centro a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, si è trasformato in un fuggi-fuggi generale. I carabinieri, entrati al boutique Hotel Villa Blu per controllare il rispetto della normativa anti-covid, hanno trovato 25 persone che non stavano rispettando le misure antivirus. Sette sono state individuate e sanzionate. In particolare un cliente americano ubriaco è riuscito a fuggire via dalla festa a bordo della sua auto e imboccando una pista ciclabile off-limits per i mezzi a motore. Ha preso una denuncia per guida in stato di ebrezza, oltre che al ritiro della patente. Le persone multate sono tutti turisti, sanzionato comunque anche il titolare della struttura. È morto all'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove era ricoverato da qualche settimana Maurizio Buratti, Novax di 61 anni di Mantova, noto per le sue partecipazioni sopra le righe alla trasmissione radiofonica di Radio 24. La zanzara a tradire il caloziere, quel covid di cui aveva sempre negato l'esistenza, vantandosi anche di essere entrato in un supermercato di Mantova quando era già in presa della malattia. Era stato ricoverato in terapie intensive all'ospedale veronese in gravi condizioni, ma non aveva mai fatto marcia indietro su quelle che erano le sue convinzioni. In occasione delle festività natalizie e in attuazione anche delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno riguardanti la intensificazione dei servizi di vigilanza nel settore del commercio dei fuochi d'artificio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha incrementato la propria attività a contrasto degli illeciti. È proprio in tale contesto che una pattuglia di finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria stava monitorando da tempo una zona dell'Alta Padovana dove si ipotizzava l'esistenza di una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio all'interno del deposito scoperto un vero e proprio sito dal potenziale esplodente elevatissimo. Erano stoccati infatti 70 kg circa di polvere esplodente e 400 kg circa di fuochi d'artificio artigianali, tra cui anche una bomba carta del peso lordo di almeno 5 kg. Oltre a varie materie prime idonee alla produzione di polvere da spallo, piombini, presse, accenditori elettrici, dosatori per polveri, tubi e cilindri, passa fuoco. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e quindi affidato alla giudiziale custodia di un operatore commerciale autorizzato. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria due soggetti residenti in provincia di Padova per il reato di fabbricazione, detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente e il procedimento penale versa allo Stato anche nella fase delle indagini preliminari. L'assessore Bonavina di Padova scende sul piede di guerra nei confronti dei locali che il prossimo 31 dicembre, dopo il Cenone, organizzeranno i fatidici quattro salti in allegria. Particolari attenzioni saranno riservate nei confronti dei vari ristobar del comune di Padova o quelli che useranno altre scappatoie per poi fare discoteca e lo annuncia proprio alla nostra Giulia Tasca. Vediamo. Sicuramente noi i controlli li faremo, soprattutto in quei locali che hanno pubblicizzato il fatto che ci sono feste di Capodanno che si tramuteranno in qualcos'altro rispetto a un semplice cena di 31 dicembre. Ancora la cronaca. Una bettoniera quest'oggi in località Barbarano ha rischiato di finire rovesciata dopo una sosta sul ciglio della strada. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco con un'autogru giunta da Padova e con l'aiuto dal distaccamento degli uomini di Lonigo si è potuto evitare il peggio. Il mezzo, con particolare attenzione, è potuto ritornare senza conseguenze in strada. Un incidente è accaduto la notte scorsa in via Pira a Mossano per la fuoriuscita autonoma di un'auto ferito l'autista che è stato soccorso dal personale Suem 118 e poi trasferito all'ospedale per i rilievi i carabinieri. Questa mattina un mezzo di trasporto eccezionale si è rovesciato lungo la provinciale 8 in via Capitello, sempre a Barbarano. L'autista è rimasto fortunatamente illeso. Il trasporto portava con sé quattro travi di cemento di una lunghezza di 25 metri per un peso di 160 quintali per ogni asse. Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Lonigo e del comando dei vigili del fuoco di Padova. La gradinata est dello stadio Appiani, inagibile dall'estate del 1994, da quando il Padova ha abbandonato lo storico impianto di via Carducci per trasferirsi all'Euganeo, verrà completamente rasa al suolo con una spesa preventivata di circa 200 mila euro. La tribuna da battere si trova sul lato di via 58esimo Fanteria ed è interamente transennato per la frequente caduta di calcinacci e il pericolo che si verifichino crolli di grosse dimensioni è troppo alto per non agire il prima possibile. Queste ovviamente le parole dell'assessore allo sport Diego Bonavina. Ma dall'opposizione per voce di Alen Luciani della Lega si è inalzata la protesta. A Natale, come a Ferragosto, questa amministrazione tende a far passare delibere scomode contando sulla minore attenzione dei cittadini. Penso ad una riqualificazione dello stadio Appiani riportandolo alla costruzione originale degli anni 20 quando fu costruito. Non un recupero a fine a se stesse ma lo scopo di mantenere la continuità storica e culturale dell'area che comprende Prato della Valle, il Bastione Santa Croce, Santa Giustina e il Canale Alicorno. La Piani diventi un monumento dove si potrebbe inserire il museo di calcio Padova. Non serve soltanto demolire, aggiunge Luciani, serve programmare il futuro concetto che questa amministrazione spesso declama ma a quanto pare solo per alcune opere magari invise ai cittadini. Aggiunge così Alen Luciani proprio con un comunicato. Beatrice Rigoni, tre quarti del Valsugana Rugby e della Nazionale, è la prima italiana ad essere inserita nel Best 15 di World Rugby. Ha ricevuto la nomination al World Rugby Award 2021, la cerimonia annuale dove la Federazione Internazionale assegna le nomine a quelle che sono le migliori giocatrici dell'anno. Alla rugbysta questa mattina è stata consegnata una targa da parte dell'assessorato allo sport, direttamente dalle mani dell'assessore Bonavina a Palazzo Moroni. Ascoltiamo le sue impressioni. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Grazie per averci seguito. Vi ricordo come sempre il nostro sito www.cafetv24.it per rimanere costantemente aggiornati. Grazie per averci seguito.